Il Bayern non entra nel carosello delle cifre folli. I nostri tifosi sono con noi. Neymar è costato di più che il nostro stadio, l'Alleanza Arena. A sottolinearlo è il presidente del consiglio direttivo del Bayern Monaco, Karl Heinzer Rummenigge, che intervistato dalla rivista Sport Build si lancia contro le follie del mercato calcistico. Rammaricandosi del fatto che lui disse no alla proposta nostra e di platini di fissare tetti salariali. Con tutte queste discussioni sull'acquisto di Neymar da parte del PSG, io mi sono domandato cosa sia più importante ha detto ancora l'ex attaccante dell'Inter, Neymar o l'Alleanza Arena? E allora dico con chiarezza che l'Alleanza Arena è più importante, oltre a sottolineare che il trasferimento di Neymar, tasse comprese, è costato di più. Rommmenigge ha poi precisato che il Bayern non può e non vuole entrare nel carosello degli acquisti a suon di centinaia di milioni, e sono convinto che i nostri tifosi siano d'accordo. Il Bayern, ha aggiunto, ha un'altra filosofia, e non ci faremo coinvolgere in questa pazzia. La gente ci capirà. Di una cosa il dirigente del Bayern si lamenta apertamente, il fatto che la Commissione europea abbia respinto la proposta del tetto salariale, portata avanti dallo stesso Rommmenigge, all'epoca presidente dell'Associazione dei Grandi Club, l'ECA, e dall'ex presidente dell'UEFA Michel Platini. Nel 2011, prima che venisse creato il Fireplay finanziario, mi son visto varie volte a Bruxelles con Platini. Il nostro scopo era introdurre il tetto salariale nel calcio europeo. L'idea venne respinta e ancora oggi mi chiedo perché i politici abbiano respinto il desiderio comune dei club e dell'UEFA. Nel calcio di oggi ci vorrebbe molta più razionalità. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.